Ciao a tutti! Arriva la Pasqua ed è tempo di pulizia di primavera. Oggi vogliamo parlare di un lavapavimenti a vapore. Da noi trovate tantissime versioni per le pulizie, ma Vaporsprint è un lavapavimenti molto particolare perché intanto è fatto completamente in Italia. Ultraleggero, compatto, piccolino, pronto in un minuto e genera grandi e grandi di vapore sciogliendo e sgrassando tutto in una sola passata. Con Vaporsprint, con un semplice straccio, voi potrete pulire, asciugare e sgrassare immediatamente il vostro pavimento. Vaporsprint, utilizzando acqua di rubinetto, oppla, ecco il risultato del nostro pavimento, utilizza esclusivamente acqua di rubinetto. È molto maneggevole, lo si può addirittura usare in verticale per poter andare a pulire vetri, piastrelle, rivestimenti, sanzaniere, tutto quello che volete. È completo di accessori e la cosa più interessante è che quando e se si otturerà dal calcare non lo dovete mandare in assistenza. Semplicemente basta aprirlo e con il suo scovolino in dotazione pulirlo all'internamento. Un'operazione facilissima da utilizzare. Venite a vederlo, Vaporsprint, tutto italiano, made in Italy, Vaccari Elettro Casa, potete venirci a trovare il negozio oppure trovare i nostri prodotti su www.vaccarilettrocasa.it. Ciao! Ciao!